Il libro a Tiranconi, innanzitutto oltre a un festival, Maneghe Libri è una fiera degli editori, perché non lo dimentichiamo, ma soltanto in Sicilia, nel sud Italia, ogni anno in questo Maneghe Libri ci sono 70, 80, anche se è arrivato a 100 editori, piccoli editori. Di tutta Italia, tra l'altro. Indipendenti. Quindi che non sono legati a grandi catene editoriali. Piccoli editori, che voglio dire, coraggiosi, perché continuano a investire su un prodotto che tecnicamente sarebbe superato. Io non so se tecnicamente è superato, perché il libro, a differenza del telefonino, non ha bisogno di elettricità, non ha bisogno di campo. Non si scarica. Non si scarica. Se lo lasci sotto il sole, non è che lo schermo diventa leggibile. È uno strumento che tu devi portare in montagna, al mare, tu devi portare nello zaino. Quindi questa duttilità del libro. È sempre connesso. Se ti sai connettere al libro. Questa duttilità del libro non è una cosa banale, non è una cosa seconda a dare, perché ti dà anche opportunità di poterlo leggere dove vuoi. Lo puoi leggere a letto, lo puoi leggere in bagno, lo puoi leggere sul divano, lo puoi leggere di notte e di giorno. E ce l'hai vicino al comodino o ce l'hai appunto nel tuo zaino. Se ci sono questi editori che ci credono, faticosamente, perché non è sicuramente un prodotto che fa guadagnare chissà che, perché ogni prodotto deve guadagnare copia per copia e quello che va all'editore è un po' di più di quello che va al libro. Già al libro va poco, ma stiamo parlando di un percentuale... Forse anche agli scrittori va poco, perché stiamo parlando di un percentuale dal 10 al 20% sul prezzo di copertina, quindi su 15 euro... Che è il prezzo medio di un libro in Italia, 15 euro. Ci stiamo parlando di 2 euro, 2,50 che vanno all'editore, un euro andrà al libraio, un euro e 50, l'altrettanto va all'autore e poi tutto il resto sono le spese vive di trasporto. Perché il fatto di trovare un libro nella libreria di Palermo, di Siracusa, di Canicattì o di Grigento non è un'opera da poco, far arrivare questi libri in tanti luoghi.